bimbi facciamo il gioco del safari a scuola l'abbiamo fatto tante volte vi ricordate prendiamo dalla nostra fantasia macchina fotografica cappello tagliamo sulla gif che ci porterà a vedere gli animali della savana e se pronti si parte leone e leonesca leone leopardo elefante gazella antilope gnu ipopotamo giraffa zebre strutti rinoceronte coccodrillo stiamo ancora sulla gif ma il safari sta per concludersi stanchi del nostro safari adesso ci andiamo a riposare nella tenda e dopo ci sarà una bellissima sorpresa la riconoscete bimbi? ciao bimbi sono la maestra ziera vi ho fatto una bella sorpresa sono nella savana in mezzo a tutti gli animali che avete visto e ora stanca del safari mi vado a riposare nella tenda vi saluto ciao bimbi a presto ciao 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 Grazie a tutti.